Vado a accendere? Se non torno a casa quella merda di mio padre lo ammazza. Pronto? 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 Pronto! Amore mio! Mi dispiace tanto, ma non ce la faccio. No, non si preoccupi, dottore. Lei può mangiare. Il peperoncino ce l'ho messo solo a lui. A chi lo date? Il dottor Cane. Chi è? Tu non conosci il dottor Cane? No. Non si conosce. No, comunque non l'ho data il dottor Cane. Ho fatto un provino e registra mia scelta, tutto qui. Volevo solo dirti grazie. Oddio, che è? No, niente. Di tutto. No, guarda, ci ho pensato, eh. Credo di sapere come farla. Davvero? Sì. Where'd you get those eyes? Oh! Forte! È anche brava, eh? Ma che importa? Brava o non brava? È figlia tua, genio! No, però scusate, così non si può lavorare. In teoria su set c'è una persona che dovrebbe dire che cosa bisogna fare e tutti gli altri dovrebbero tenersi a quello che dice lui. Ma comunque non era un pippone. Dai, gliela racconta, eh? I primi due minuti le stanno sentendo. Solo che ieri ho fatto il secondo provino per il nuovo fin di Sorrentino, no? E mi ha presa. Solo che non lo posso fare perché, perché sono qui. E lui da ieri non fa che bombardarmi di telefonate. E io gli ho detto che non posso, che devo fare? Però, mi scusi, ci sarà un modo. Voglio dire, capisco che è difficile, che è improbabile, ma ci deve essere un modo per proporre un'idea. Brava, è proprio questo il punto. Non c'è. Fino a quando ho fatto venire, scusa, venire. Ciao, Paolo. Ma che fa non mi rispondere al telefono, sei impazzita? Eh, scusami, ma stavano girando e proprio non ho sentito. Ho finito? Sono stata nei tempi? A me sembra una grande puttanata. Una grandissima puttanata!